Allora sicuramente sarà un'avventura che mi porta a pensare che ci saranno dei giorni bellissimi da passare insieme nei prossimi, spero, quattro anni. Vengo da un territorio, lavorativamente parlando, completamente differente perché vengo, comandavo, il lucro operativo radiomobile della compagnia di Catanzaro. Quindi venendo da una regione come la Calabria e essendo stata trapiantata qui nelle Marche sicuramente ci sarà un lavoro completamente diverso. Però mi aspetto veramente grandi cose da questa città, da questa regione, me ne hanno tutti quanti parlato benissimo e insomma sicuramente lavoreremo bene insieme. Io spero di dare un grande contributo a questa città, soprattutto con una grande proiezione esterna, cercherò di far uscire più pattuglie possibile per far stare sicuri anche i cittadini, e che questa è la cosa più importante, grazie anche alle otto stazioni che fanno parte della compagnia di Senigallia. Quindi abbiamo tre stazioni che si occupano insomma della parte marina, altre che sono nell'entroterra, quindi diciamo che il territorio di Senigallia è un territorio veramente molto vasto e che insomma spero di riuscire a coprire nel miglior modo possibile. Grazie a tutti.